La prima cosa necessaria a ogni cristiano è la fede. Senza di essa nessuno può dirsi fedele. La fede inoltre produce quattro beni. Il primo è unire l'uomo a Dio, perché mediante la fede l'anima contrae con Dio una specie di matrimonio, come scritto in Osea. Ti farò mia sposa per sempre, ti fidanzerò con me nella fedeltà. Osea 2, versi 21 e 22. Il secondo è iniziarci alla vita eterna. La vita eterna, infatti, non è altro che conoscere Dio, come disse lo stesso Signore. Questa è la vita eterna che conoscano te, l'unico vero Dio. Giovanni 17, verso 3. Questa conoscenza di Dio inizia ora per mezzo della fede, ma diventerà perfetta nella vita futura. Il terzo bene è che la fede ci guida nella vita presente. Infatti, perché l'uomo possa vivere rettamente, è necessario che conosca le regole fondamentali della rettitudine, ma se dovesse apprenderle tutte con lo studio, o non ci riuscirebbe mai, o solo dopo molto tempo. La fede, invece, insegna tutto quello che è necessario sapere per vivere in modo buono. E ciò trova conferma nel fatto che, prima della venuta di Cristo, nessun sapiente, nonostante tutti i suoi sforzi, riuscì mai a conoscere Dio e delle cose necessarie per conseguire la vita eterna, tanto quanto dopo la venuta di Cristo. Una semplice vecchiarella sa mediante la fede. Perciò si dice in Isaia che la saggenza del Signore riempirà il paese. Isaia 11, verso 9. Il quarto bene è che la fede è il mezzo per vincere le tentazioni. Dice infatti San Pietro, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resisteteli, saldi nella fede. Prima Pietro 5, versi 8 e 9. Appare così evidente quanto sia utile la fede.